cari colleghi buonasera a tutti quanti in questo giorno della vigilia tenevo ad augurarvi a nome mio e di tutto l'esecutivo regionale di snami emilia romagna migliori auguri per natale e per le prossime festività ma sicuramente ci sentiremo anche per l'anno nuovo per fare un po la somma diciamo di quello che sta accadendo purtroppo questo natale nella regione emilia romagna si sta regalando qualche grattacapo nel senso che sotto l'albero alcune aziende usl ci stanno lasciando dei regali non particolarmente graditi ma vedremo di affrontare anche questa come sempre abbiamo affrontato anche tutte le altre criticità di tutti i settori nei quali operiamo dall'emergenza alla medicina di famiglia alla medicina penitenziaria ai dipendenti ospedalieri io vi ringrazio e porgo veramente di cuore a nome mio e dell'esecutivo lo ripeto l'esecutivo ma anche tutto il consiglio direttivo in realtà non volevo dimenticare nessuno della famiglia snami emilia romagna auguro a tutti voi veramente un caloroso natale a chi lavora e a chi a casa e ovviamente a tutti i vostri cari buon natale e a presto